Nome? Valeria. Cognome? Albanese. Età? 22. Professione? Studentessa disoccupata. Corso di laurea? Scienze della comunicazione. Dove si trova la tua università? A Savona. Dove abiti? A Genova. Ti piace vivere nella tua città? Ma abbastanza. Preferito? Al di là dei sogni. Attore preferito? Robin Williams. Piatto preferito? I sushi. Squadra del cuore? Genua. Pratichi sport? No. Hobby? Hobby? Sì, ma leggere, andare al computer, scrivere, passeggiare, un po' di tutto. Che in Italia ci sia futuro per i giovani? Ma prima o poi invecchieremo. Dove vorresti vivere? Sto bene anche a Genova. O contro aborto? O valuterei di caso in caso. Hai progetti per il limitato futuro? Sì, arrivare al treno. Hai mai pensato di intraprendere l'esperienza Erasmus? No, non ci penso nemmeno. Che lavoro vorresti fare da grande? Mi piacerebbe fare da giornalista. E quale non vorresti proprio fare? Qualsiasi cosa tocchi, animali, persone, roba che puzza, queste cose qua. Grazie, saluti i tuoi fan. Ciao a tutti.